Ciao ciao raga, da una visione di insieme di animali pelosi a quattro zampe sul tavolo passiamo all'estrazione del vincitore del giveaway mi spiace tantissimo ma suodeo.ch ha deciso di non funzionare ma io devo estrarre per forza un vincitore perciò ho deciso di fare con il sito random.org praticamente, aspettate che non trovo, come al solito ecco, allora i commenti sono 215 quindi qui random.org ho messo dammi un numero da 1 a 215 ovviamente ho cancellato le mie risposte, i miei commenti quindi adesso vi dico, genera ecco io dovrei contare fino a 165 e dire chi ha vinto quindi aspettate un attimo e poi ve lo dirò vi dovete fidare, più random di così? 165 ok, aspettate eccomi, il numero 165 è Beatrice02 che mi ha scritto auguroni, non ricordo dove ma un giorno avevo letto una frase che diceva le donne sono come il vino con il passare degli anni diventano sempre meglio molto bene Beatrice02, sei la vincitrice fatti viva non hai un canale, no? perché hai solo 3 iscritti, non credo comunque Beatrice02 io adesso ti iscriverò chi conosce Beatrice02 glielo dica altrimenti devo estrarre un altro vincitore ho contato fino a 165 raga, non vorrei rifarlo quindi auguri, auguri, auguri fatti sentire ciao, ciao, ciao ciao